A Nangrigento domani giovedì 12 aprile nell'Aula Magna del Liceo Classico Empedocle si svolgerà dalle ore 11.30 in poi la giornata conclusiva del progetto Un Filo per Salvare Arianna. Si tratta di una iniziativa contro la violenza sulle donne ideata dall'Associazione PEA, l'ente per l'educazione degli adulti diretto da Gino Carubbia e che ha coinvolto un gruppo di studenti del Liceo Empedocle diretto da Anna Maria Sermenghi. Alcuni giovani di seconda e terza liceo presenteranno ad un pubblico di esperti e di cittadini interessati i prodotti della loro ricerca. Ascoltiamo in proposito la stessa preside, Anna Maria Sermenghi. L'iniziativa di domani, Un Filo per Salvare Arianna, è il momento conclusivo di un progetto che abbiamo realizzato insieme all'Associazione Culturale PEA presieduta dal professore Gino Carubbia che ha proposto al nostro istituto un percorso laboratoriale sul tema specifico della violenza contro le donne. Il progetto è stato coordinato dalla professoressa Giovanna Grisafi con la quale è stato attuato un rapporto di proficua collaborazione che ha maggiormente coinvolto due classi del nostro istituto, due classi che peraltro erano già impegnate a seguire un laboratorio di estetica. Per quale ragione scegliere dei ragazzi e delle classi che in qualche modo avevano già avviato il loro percorso sull'estetica? Perché la metodologia di questo progetto è stata molto particolare, specifica in quanto ha voluto stimolare la riflessione dei ragazzi partendo da alcune immagini fotografiche che riguardano peraltro una mostra fotografica che è stata realizzata dal gruppo degli amici di Peppino Impastato nel proporre le immagini. Evidentemente i ragazzi sono stati poi portati ad elaborare liberamente delle riflessioni naturalmente con la raccomandazione di farlo attraverso gli strumenti culturali che vengono dalla loro formazione, dal loro percorso di studio e devo dire che il progetto ha dato anche dei risultati molto interessanti perché con grande motivazione i ragazzi hanno partecipato producendo dei lavori multimediali ma anche degli elaborati scritti, ognuno con una propria proposta e una propria originalità. Ma quello che maggiormente ha consentito anche di trarre se vogliamo un bilancio positivo da queste esperienze è stato anche quell'acquisizione di consapevolezza, una maggiore acquisizione di consapevolezza anche del discorso legato agli stereotipi culturali o di genere che sono ancora molto presenti nella nostra cultura che molto spesso non vengono neanche colti fino in fondo. Ma questo progetto ha dato ai ragazzi anche la possibilità di riflettere molto su temi che riteniamo anche fondamentali ed importanti rispetto alla nostra società, rispetto al tempo che noi stiamo vivendo e rispetto anche a dei fenomeni culturali che riguardano la scuola proprio per il contributo che la scuola stessa può dare rispetto alla costruzione di un'idea, di un senso della cittadinanza che non può non contemplare anche la cultura di genere. Domani 12 aprile alle 11 e mezza presso l'Aula Magna del Liceo Classico invitiamo anche i cittadini a venire a prendere visione dei risultati di questo progetto che ci ha lasciato soddisfatti sul piano dell'impegno profuso dai ragazzi e soprattutto grazie al metodo che è stato utilizzato, cioè la proiezione di alcune foto su cui i ragazzi hanno lavorato per riproporre in un linguaggio nuovo, un linguaggio diverso da quello fotografico, delle riflessioni sul tema della violenza alle donne. Ringraziamo quindi gli autori, gli artisti di questa mostra che si chiama Anzemmola appunto e che ha girato per tutta la Sicilia e che ci hanno concesso di visionare e di dare in mano ai ragazzi per poter lavorare.